Ciao ragazzi, benvenuti su PaperZack, oggi andremo a vedere SWT TEL by Swiss Vape Technology Eccoci qua ragazzi, andiamo a vedere questo SWT TEL by Swiss Vape Technology Allora vi faccio vedere un po' il tutto, qui abbiamo la scatolina con cui vi arriva l'atomizzatore dietro prodotto da SWT divisione GOSS, molto carina, mettiamola qua e qua ragazzi ho esploso l'atomizzatore, così adesso lo andremo a montare insieme e vedremo tutti i pezzi e vi mostrerò come è composto Innanzitutto dentro la scatolina troviamo questi due adesivi poi troviamo le istruzioni per l'uso, il certificato di autenticità dove c'è il nome del prodotto, il modello e il seriale con la firma dei modder e lo scarico di responsabilità dopodiché andiamo a ricomporre l'atomizzatore Innanzitutto partiamo dal primo pezzo che è il fondello come vedete ha le laserature con il seriale, nel mio caso VD il nome del canale, qui Swiss Vape Technology dopodiché vediamo il pin che è autoregolante quindi quando noi andiamo ad avvitare il fondello all'altro pezzo il pin in automatico scenderà e si autoregolerà a seconda dell'atomizzatore che andiamo a montare qui possiamo vedere una delle prime differenze dal prototipo che è la godronatura aumenta il grip quando dovete andarlo a svitare o avvitare le laserature è un'altra differenza e poi gli AFC che poi andremo a vedere che sono tutti da MTL comunque ora andiamo per punti qua troviamo l'alloggio per l'AFC fatto molto bene, l'atomizzatore realizzato in acciaio 304 qui all'interno andrà montato uno degli adattatori per l'aria che ora andremo a vedere qui vediamo il più piccolo e la misura delle entrate dell'aria sono 0,5 mm per 1 mm di profondità perché come vedete sono tagliati quindi 1 mm in profondità e 0,5 di larghezza e questo è il più piccolo poi abbiamo un intermedio, eccolo qui che è 0,35 di profondità e 2 mm di larghezza e poi abbiamo l'ultimo che è 0,5 di profondità e 2 mm di larghezza io nel mio caso andrò a prendere quello intermedio e lo andiamo a montare per montarle è molto semplice teniamo le parti delle asole verso il filetto e lo andiamo a incastrare in questo modo così vedete che rimane lo spazio e poi gli andiamo a fissare il fondello in questo modo qua poi andremo a mettere le tre vitine che tengono il fondello attaccato all'FC e le andiamo a avvitare operazione molto semplice ecco fatto e così abbiamo montato regolarmente il nostro riduttore aria dopodiché troviamo questo pezzo che non è altro che l'alloggio per l'atomizzatore e funziona in questo modo ora ve lo farò vedere col crossbow allora andiamo a mettere nella parte piatta l'atomizzatore e lo facciamo scendere e ha uno ring di tenuta in questo modo qua dopodiché andremo a chiudere il nostro atomizzatore lo andiamo a mettere all'interno del tank in questo modo qua e poi andiamo a stringere così il nostro atomizzatore ad immersione è correttamente montato qui sotto ovviamente rimarrà l'entrata aria entrata aria che andrà appunto ad essere ridotta tramite appunto l'AFC che va montato qua sotto quando voi andate a avvitare questa parte qua l'importante è che la avvitiate finché sentite lavorare gli o-ring a un certo punto sentirete che fa un po' di presa e voi andate a stringere una volta che arrivate a battuta siete a posto cioè non dovete stare lì a stringere come dei forsennati ma comunque una volta arrivati a battuta l'atomizzatore è a posto qui avremo il pin che nel frattempo si è autoregolato e l'atomizzatore è praticamente quasi pronto a partire dopodiché si va a mettere questo pezzo molto molto bella la lavorazione drittip classico OSVT molto comodo qui andremo a mettere questo pezzettino qua andiamolo ad avvitare anche qua fino a che sentiamo lavorare l'o-ring in questo modo e poi andiamo a mettere l'ultimo pezzo che è praticamente un anello estetico e lo andiamo a fissare col suo o-ring e questo ragazzi è il TEL montato con il crossbow all'interno una figata veramente hanno avuto una pensata notevole molto molto bello anche esteticamente tank in ultim tutte queste parti l'anello estetico il tank la parte qua superiore saranno tutte personalizzabili col tempo ce ne saranno di vari colori e modelli e quindi un atomizzatore in pieno sviluppo l'atomizzatore ha un diametro di 22 mm e non è neanche troppo alto però ha una capienza veramente notevole adesso andrò a mettergli la testina del nautilus con l'arrow che adesso andiamo a vedere perché la voglio provare anche con le testine questo atomizzatore funziona sia col crossbow che col vape shell con l'exocet con le testine del nautilus con appunto il bridge sempre di casa svt quindi qua dentro potete mettergli quasi tutti gli atomizzatori ad immersione della billet ora lo andiamo a rismontare così gli mettiamo dentro l'arrow per andarlo a smontare si va a svitare il fondello in questo modo dopodiché quando andiamo a svitare questa parte qua ci sono due modi allora o utilizzate delle pinze a becco in questo modo qua andiamo a prendere il tanker giriamo appena appena che lui si molla e poi andiamo a svitare a mano altrimenti se non abbiamo le pinzette non c'è nessun problema si svita anche a mano l'unica accortezza è che oltre a girare in questo modo innanzitutto per svitarlo non bisogna tenere da quassù perché altrimenti si rischia di deformare un po' e quindi va a fare ancora più presa su questo pezzo ma voi lo tenete da qua dal tank e soprattutto bisogna spingere in basso e girare perché in questo modo l'oring non farà più l'effetto molla verso l'alto e quindi il filetto andrà ad essere veramente tanto stretto dal momento in cui voi spingete un po' in giù andate a separare leggermente i filetti e girate quindi spingiamo in giù e lo andiamo a svitare altrimenti venduto separatamente c'è questo tool eccolo qua sempre marchiato SVT con questi due dentini che non farà altro che da estrattore quindi andiamo a mettere i due dentini all'interno delle asole del refill andiamo a spingere verso il basso e a svitare la parte in questo modo è molto molto comodo effettivamente un'altra cortezza che vi dico è praticamente quando ci svapate tanto magari la parte alta fa un po' fatica a venire via allora loro hanno pensato anche a quello e hanno fatto questo pezzo qua che oltre ad essere estetico è anche una chiavetta per andare a svitare la parte superiore quindi voi l'andate a svitare così lo mollate e lo tirate via ora vi andrò a parlare velocemente dell'arrow che non è altro che il bridge targato SVT per le testine del Nautilus qui ho una testina del Nautilus che andrò ad avvitare in questo modo qua dopodiché andrò a mettergli la parte inferiore così e nostro arrow è perfettamente assemblato dopodiché lo andiamo a montare quindi lo andiamo a inserire nella sua sede in questo modo qua poi andiamo a metterlo nel tank ecco fatto andiamo ad avvitarci la parte superiore e poi andiamo a infilare l'anello estetico e così il tell con l'arrow all'interno la testina del Nautilus è perfettamente assemblato l'arrow viene venduto anche separatamente appunto per essere utilizzato sulla billet e quando lo prendete a parte vi viene dato anche questo qua che è un pezzettino che va infilato sotto in questo modo e si può andare a regolare l'aria ma in questo caso la regolazione dell'aria ce l'abbiamo già sul fondello del tell quindi questo non serve ora andiamo a vedere quanto liquido tiene con le testine del Nautilus perché ovviamente essendosi dentro un atomizzatore che varia anche le capienze variano quindi adesso lo andiamo a riempire e vediamo quanto tiene allora qui abbiamo 5 ml di American Red quindi andiamo a mettergli 5 ml ok ecco fatto 5 sono andati molto comodo anche il secondo foro che ovviamente fa da sfogo dell'aria andiamo a mettergli un altro po' di ml e siamo arrivati quindi qua ne sono rimasti 3 ciò significa che ci sono stati 7 ml di liquido con le testine del Nautilus ora andiamo a rimettergli il suo fondello con l'FC e basta ragazzi questo è il tell totalmente montato e ricaricato con all'interno l'arro sempre di Swiss Vape Technology e le testine del Nautilus penso di avervi fatto vedere tutto bene o male di cose ce n'erano molte adesso torniamo su e andiamo a fare due chiacchiere su questo atomizzatore allora ragazzi andiamola a provare adesso lo andremo a provare con le testine del Nautilus che era l'ultimo test che dovevo fare su questo atomizzatore la resistenza è la classica da 1.8 ohm del Nautilus e la spingo a 12 watt tanta roba vabbè allora partiamo per punti atomizzatore costruito molto bene dove nulla è stato lasciato al caso e devo dire che a livello concettuale è stato un lavoro notevole gli è stato dato anche un brevetto come dispositivo unico ed effettivamente è il primo dispositivo a tank che permette di utilizzare gli atom da immersione per billet box su un atomizzatore a tank normale ma ora andiamo per punti allora la godronatura fatta sul fondello fa perfettamente la sua funzione da un buon grip e si riesce a svitare senza nessun problema molto belli gli airflow che a differenza del prototipo qui sono tutti da MTL quindi anche quelli che poi sarà destinato alla vendita cioè questo modello saranno tutti per MTL poi in futuro verranno rilasciati dei kit da flavor con tre FC differenti e forse un drittip questo però poi è da vedere però comunque verranno rilasciati altri upgrade altri kit per gli FC altre personalizzazioni tank di altri colori insomma un progetto in continua espansione in questo caso i riduttori da MTL fanno perfettamente il loro lavoro vi posso già dire che col più piccolo che poi l'ho cambiato perché l'altro era leggermente troppo aperto per le testine del Nautilus con questo qua più piccolo si ha un tiro MTL ultra liscio e perfettamente calibrato veramente tantissima roba è proprio liscio silenzioso niente a che fare con le testine del Nautilus montate sulla billet qui il tiro è perfettamente liscio contrariamente a questo invece con il crossbow io ci metto quello intermedio secondo me quello intermedio è l'orosità perfetta e anche lì il tiro risulta bello liscio dopodiché il montaggio degli atomizzatori di immersione all'interno è molto semplice l'avete visto anche nelle macro basta tenere un attimo di accortezze nello svitare l'alloggiamento dell'atomizzatore come vi ho fatto vedere basta spingere un po' in giù e poi girare si può fare a mano si può fare con le pinzette si può fare ancora meglio con il piccolo tool che viene venduto separatamente tank in ultim molto bello top cap che ha la doppia funzione serve anche da chiavetta anche in quel caso molto molto figo e drittip comodissimo la capienza di 7 ml con le testine del nautilus è veramente tanta roba vi permette comunque di avere un solo dispositivo e farci tranquillamente tutta la giornata almeno che non svapate come dei caimani però io sinceramente con 7 ml ci vado proprio stra tranquillo con il crossbow ovviamente la capienza sarà un po' minore sarà più o meno sui 5-6 ml perché comunque occupa più spazio all'interno però in definitiva si ha sempre una buonissima capienza di liquido ho notato che con crossbow l'alimentazione risulta leggermente più grassa e questo secondo me ne giova anche nella resa appunto dell'atomizzatore invece qui l'alimentazione è sempre costante le testine funzionano benissimo e non si ha mai nessun tipo di problema è inutile che vi sto qua a parlare del crossbow perché comunque l'ho già fatto in un altro video dedicato quindi vi invito ad andarlo a vedere se volete vedere rigenerazione e tutto il resto ma qua parliamo proprio del concetto del TEL a mio parere ha molto senso perché sinceramente avere delle testine del nautilus con così tanta capienza e soprattutto con un tiro che è molto meglio che nella billet o un crossbow che alimenta meglio e comunque anche qua si ha più capienza della billet e in più si ha un tank molto bello da vedere perché sinceramente a me piace di più così devo dire che di senso ne ha secondo me progettarlo non è stato semplice ci avranno sbattuto la testa un bel po' però alla fine hanno fatto un prodotto che secondo me è venuto molto molto bene un appunto che posso dargli perché ovviamente nessuna cosa è esente alle difetti è il fatto che nelle parti dove ci sono le fresature nei filetti nelle sporgenze è leggermente tagliente parlo proprio delle parti interne perché ad esempio questa qua non ha nessun problema e anche la godronatura non ha nessun problema proprio le parti interne leggermente taglienti si sente che andrebbero passate un po' meglio ma per il resto ragazzi l'atomizzatore è costruito benissimo non c'è niente da dire c'è solo da fare un plauso per l'idea perché effettivamente è un atomizzatore unico nel suo genere concepito da persone che comunque sono nate con la billet e hanno una grande stima appunto per quel sistema e non hanno voluto rinunciare agli atomizzatori ad immersione anche quando volevano un tank ed effettivamente la cosa funziona dopodiché qua dentro potete mettergli praticamente quasi tutti gli atomizzatori della billet quindi anche il web shell l'exo eccetera eccetera appunto poi con i kit da flavor si potrà andare ad utilizzare anche in flavor insomma un progetto veramente molto in espansione molto personalizzabile fatto bene e con un'idea di fondo a mio parere molto molto bella poi spendo anche le ultime due parole sull'arrow che funziona benissimo sulla billet soprattutto la regolazione dell'aria permette di avere sulla billet un tiro veramente mtl anche se voi andate a girare completamente il pezzettino in plastica che vi ho fatto vedere che fa una bellissima presa sulla testina quindi non è che è l'asco o cose del genere e voi andate a chiudere tutto chiudete tutte le asele l'hanno studiato in modo che passi comunque leggermente un po' d'aria e fa sì io lo utilizzo così fa sì che si abbia un tiro molto chiuso e molto più liscio che il solito perché solitamente le testine del nautilus nella billet avevano quel tiro un po' troppo aperto invece con quella regolazione dell'aria funzionano benissimo quindi complimenti ad svt per questi bei prodottini allora l'arrow costa se non mi ricordo male ragazzi sulla ventina di euro invece l'svt tell con arrow all'interno però senza la sua regolazione dell'aria piccolina viene venduto ad 89 euro sarà disponibile a partire dal vape italy e poi lo troverete regolarmente sul sito di swiss vape technology io ringrazio svt per avermi dato la possibilità di recensire questi prodotti ringrazio voi come al solito per aver visto il video e ci vediamo alla prossima ciao ragazzi ciao 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 Grazie per la visione!